THE FLIP STREDIPATS Qui è andata a vivere in via del corso? No, 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 no Posso dirlo che la tua ragazza viene da una città che si chiama... Da dove viene? Tu sai da dove viene? No, basta, si alimenta perché qui sicuro nella tua chat c'è qualche stalker Questa era vera Questa l'ho fatta... l'ho fatta adesso Il timing era...